soluzioni migliori per la scuola. Abbiamo una sezione dedicata sul nostro sito, sul blog, anche una sezione della nostra Campus Store Academy, quindi una divisione della nostra Campus Store Academy, si occupa proprio di queste tematiche, di Microsoft 365, degli applicativi migliori per fare didattica con gli strumenti come Word, Excel, PowerPoint, eccetera, eccetera, che possono migliorare soprattutto una didattica a distanza o che comunque usa il digitale come componente innestata fondamentale nella quotidianità di ogni giorno. Prima di lasciare la parola al nostro relatore di oggi, vi ricordo che la nostra presenza didacta si declina in varie forme, una di queste è un spazio, una foto a 360 gradi che potete vedere, esplorare proprio nella pagina Campus Store all'interno del sito di didacta, ma che trovate da questa, e che abbiamo lanciato appunto per questa manifestazione, ma che troverete poi sempre a disposizione sulle nostre pagine, il sito campustore.it e il blog Innovation for Education. È un ambiente, un ambiente già declinato con le tecnologie migliori come appunto i PC o i tablet che possono essere utilizzati poi per fare le attività che vedremo nel corso di questo workshop, il monitor interattivo, non abbiamo messo la LIM perché abbiamo voluto creare uno spazio un pochino più innovativo, ecco, rispetto, quindi guardare al presente che si protende verso il futuro più che al passato. E quindi abbiamo creato un po' questi ambienti che potete esplorare tranquillamente, è una foto appunto tutta cliccabile, se ci cliccate sopra vi si aprono degli approfondimenti, dei collegamenti per testuali e così via, che penso possano essere davvero interessanti. Questo spazio poi ve l'abbiamo raccontato in un appuntamento che abbiamo tenuto lunedì alle 4, lunedì scorso, ma che è fruibile anche in differita, quindi potete vedere la videoregistrazione, la trovate appunto nel blog Innovation for Education. A questo punto non mi resta che lasciare la parola all'ospedale di oggi, facendo un piccolo appunto, ovvero da programma era annunciata la presenza di Gianni Ferrarese, che purtroppo ha avuto un impedimento abbastanza importante e personale, purtroppo gli mandiamo i nostri più affettuosi saluti, un abbraccio grande Gianni, e ringrazio tantissimo per questo motivo Silvio Pierro dell'Istituto Tosi di Busto Arsizio, che prontamente ha risposto, devo dire, con grande slancio alla nostra richiesta di soccorso stamattina e terrà quindi il contenuto che ci aspetta e ci spiegherà quindi come si può fare scuola in modo entusiasmante, coinvolgente, inclusivo, grazie agli strumenti di Microsoft 365. Buongiorno Silvio, grazie per essere con noi. Perfetto, grazie per avermi invitato qui. Spero insomma di non fare brutta figura, visto il poco tempo di provviso, ma comunque... Mi chiedo scusa. Sono sicura di no. Dico anzi ai nostri ospiti che se hanno delle domande, dei dubbi rispetto a quello che vedranno e che mostrerai, è a disposizione una sezione appunto dedicata, che trovate qui sopra al riquadro, diciamo, video. È una sezione dove vedete dei fumetti e dei punti di domanda, c'è anche scritto question. Potete entrarli dentro, scriverci le domande e magari le facciamo a Silvio alla fine del suo intervento. Prego Silvio, adesso mi taccio. Ok, perfetto. Allora, bene. Oggi appunto parliamo di classe inclusiva e di strumenti quali Office 365 e Teams, con Teams integrato per le nostre lezioni con i ragazzi, sia in classe che le nostre lezioni a distanza. Quindi inizierei con una breve presentazione, che adesso vado a condividere, in cui, insomma, vi faccio vedere un pochino che cos'è questo Office 365, che magari qualcuno di voi ha già iniziato ad usare, sapete qualcuno degli strumenti, ma magari non avete idea delle potenzialità e di quello strumento che vi ha messo in mano la scuola, che può esserci utile adesso e in futuro in maniera molto interessante. Innanzitutto direi di cominciare quel presentare Office 365, che non è soltanto Teams, non è soltanto video lezioni, è molto di più in effetti. È uno strumento che innanzitutto non nasce per la scuola, ma nasce per le aziende. Office, lo sappiamo tutti, è nato inizialmente come tre semplici programmi, Word, Excel e PowerPoint, per creare file, salvarli sul nostro computer, stamparli o cose del genere. Poi in realtà nel tempo Office si è evoluto sempre di più, fin quando non è arrivata questa versione, che unisce l'aspetto innovativo della connessione tramite Internet e della condivisione dei prodotti attraverso Internet per ottenere qualcosa in più. Quindi invece di avere solo dei file sul vostro computer, voi potete integrare questi file con chi vi circonda, con chi lavora con voi, mentre per il mondo della scuola significa con la classe o con i colleghi, il consiglio di classe, il collegio docenti, insomma, qualunque aspetto della scuola vi interessi di più collegare. Quindi non solo produttività, non solo strumenti di produttività, ma anche strumenti di condivisione. E visto che c'è stata questa necessità, Microsoft si è anche, diciamo così, prodigata per aggiungere anche degli strumenti pensati apposta per la scuola, quindi inserire anche una valutazione, e perché no, anche degli strumenti per aiutare chi magari ha difficoltà di qualunque genere, ad esempio difficoltà nell'apprendimento, difficoltà visive, cose del genere, quindi creare anche dei supporti inclusivi, come ad esempio molti strumenti presenti in parecchi pacchetti, tipo OneNote o chi ne ha, o moltissimi altri. Quindi, innanzitutto, va bene, ci sono tutta una serie di prodotti di Office 365 pensati per la scuola, sono raccolti fra i prodotti di Office nella pagina, in questo primo link. Innanzitutto, la maggior parte di noi ha un piano che viene definito A1 dalla Microsoft, ovvero il piano gratuito pensato per le scuole. Quindi la nostra scuola ha fatto richiesta a Microsoft per avere il piano gratuito e da allora fornisce account ad ognuno di noi che danno a disposizione alcune funzionalità. Altre funzionalità sono a pagamento, ma ne parleremo più avanti. Appunto, però, attenzione, perché il sottoscrittore è la scuola, perché noi abbiamo determinate normative, GDPR, che dobbiamo rispettare, il fatto che le nostre informazioni devono risiedere nella comunità europea e che, insomma, noi non possiamo chiedere agli studenti di registrarsi su un sito. La scuola si registra per noi e la scuola ci fornisce lo strumento, perché è la scuola che ha stretto il contratto di licenza con Microsoft. Quindi, il punto di vista legale lo abbiamo risolto in questo modo. Ovviamente, sì, l'account è legato al dominio della scuola, penso che ognuno di voi, se avete un account office legato alla scuola, avrete qualcosa del tipo nome, cognome, nome, punto cognome, chioccio, la nome della scuola, punto it, punto ed, punto it, qualunque cosa sia. E la cosa interessante è che, insomma, lo potete usare dovunque. Questa è una cosa molto interessante che di solito Microsoft non faceva, però il multipiattaforma significa che lo potete usare su qualunque strumento. Ad esempio, io non ho grossi problemi, visto che i miei studenti hanno ognuno, ognuno si connette con strumenti diversi, cioè chi si connette col computer, chi con il tablet, chi con, non lo so, addirittura con il cellulare. Però il fatto che sia multipiattaforma mi assicura che loro possano usare qualunque strumento, possono usare Teams e anche tutti gli strumenti di Office 365 con qualunque dispositivo, cosa che non sempre è assicurata. E quindi, questo è quanto abbiamo detto. Come vi ho detto, le applicazioni sono gratuite per quasi tutte le piattaforme, ovviamente però per altri strumenti non sono gratuiti. Ad esempio, installare Word, Excel e PowerPoint non si può fare con la licenza gratuita. Questo per dare un piccolo esempio. Comunque sia, Office 365 alla fine non è altro che una schermata con una serie di applicazioni che io posso utilizzare. Quindi io posso accedere a questa schermata andando su internet, aprendo una schermata in un qualunque browser, su qualunque computer o tablet, e aprire questa schermata e trovarmi di fronte tutta una serie di applicazioni che io posso utilizzare semplicemente facendo l'accesso con questo account che mi ha fornito la scuola con il nome e il punto cognome. Tra i tanti, ovviamente, credo che Teams già lo conoscete, lo vedremo un pochino meglio, e cercheremo di capire anche come si integra con tutti gli altri pacchetti dell'ecosistema Office 365. Perché, insomma, saperli usare tutti meglio è tutto interessante. Insomma, quindi l'idea è questa. Quindi io ho una serie di pacchetti, ognuno che fa una cosa diversa e che interagisce con la mia classe, il mio gruppo di lavoro, qualunque tipo si tratti. Quindi l'idea alla base è ovviamente creare qualcosa che possa servire, che possa aggiungere un qualcosa di utile nel mio mondo, che mi consenta di effettuare degli scambi di informazioni molto rapidi, perché l'obiettivo è quello che io possa mandare delle informazioni in maniera rapida e ricevere delle risposte altrettanto rapidamente, che si possano, insomma, creare dei sistemi di più semplici e che abbiano un senso logico, quindi con un'intelligenza collettiva, che abbiano degli obiettivi e che, insomma, permettano a chiunque di potersi collegare da qualunque posto ci si trovi. Io spesso mi capita di, siccome ho installato Office 365 anche sul mio telefono, mi arriva la mail con il documento da modificare, firmare, io lo faccio direttamente dal telefono e sono in giro a fare spese con mia moglie, ad esempio. Comunque sia, partiamo dal primo strumento del pacchetto Office 365, che è un pochino quello che definiremmo la vecchia scuola, per così dire, la posta. Sapete come funziona una post, un'email, no? Avete una casella, un indirizzo di posta elettronica con qualcosa del tipo nome, punto cognome, chioccio, lanomedellascuola.it collegata a una certa password. Questo indirizzo, in realtà, è un po' come fosse il centro del vostro account. Quindi da quello partono tutti gli altri servizi. La mail, la conoscete, quindi non vi parlerò più di tanto, è fatta per ricevere e inviare messaggi con eventuali allegati e quant'altro. Molti la usano in maniera impropria, del tipo, mi mando una mail da solo con un allegato per salvarmi quel file. Questa è una cosa che è molto superata perché esiste uno strumento fatto apposta per fare queste cose qui che quindi andremo a vedere. Comunque sia, un altro strumento che di solito è collegato alla posta che consiglio a tutti di usare è il calendario di Outlook. Il calendario è un'altra delle applicazioni presenti su Office 365 che potete immaginarlo come proprio il calendario di casa con una grossa però differenza che è connesso ai calendari di tutti quanti gli altri. Quindi questo è un esempio di un calendario di una settimana lavorativa attraverso Teams. Queste in realtà che vedete qui con tutti questi colori sono eventi salvati non attraverso il calendario ma attraverso Teams che però siccome lavora con Teams si ritrovano anche qui dentro e in realtà io vi assicuro che gli eventi del calendario mi compaiono anche sul mio orologio che mi dice dove, a che ora e mi ricorda dove devo andare ad esempio tanto per fare un pochino di cose simpatiche. Ultima cosa appunto un altro degli strumenti essenziali ovviamente sono Excel, PowerPoint e Word che sono i tre strumenti più utilizzati per produrre file e documenti però nella versione online che cosa cambia tra la versione classica e la versione online in pratica voi potete sempre creare dei documenti pensati per queste piattaforme ma li state creando attraverso internet quindi l'obiettivo non è tanto quello di creare un documento per voi ma di metterlo su internet per poterlo avere se è un documento privato potete averlo voi anche quando vi spostate vi connettete dal pc della scuola perché vi basta connettervi con il vostro account con la mail e la password e insomma quindi vi ritrovate senza avere più il rischio che insomma magari avete salvato su chiavetta e un bel giorno questa chiavetta smette di funzionare andando dicendovi addio e magari la stesso problema se cambiate computer insomma vi dovete trovate a dover spostare tutto quanto su un unico file quindi da quanto i file sono online vi assicuro che anch'io ho cambiato completamente modo di lavorare perché salvare le cose online è molto più comodo rispetto che salvarle sul locale l'unica controindicazione che avete un passaggio in più perché dovete fare l'accesso con questo account per accedere e inoltre cosa molto interessante che spero di riuscire a farvi vedere la collaborazione cioè posso io creare un file e posso condividerlo con molte altre persone in un gruppo di lavoro e possiamo lavorarci assieme e modificarlo insieme pensate ad esempio ai vari documenti del consiglio di classe oppure che ne so dovete realizzare un documento che è in classe invece dove i ragazzi devono creare per il progetto di cittadinanza un documento condiviso tutti assieme volete vedere che cosa stanno facendo potete fare che cosa stanno scusate che cosa stanno a che punto sono e come procede potete controllarli proprio nel momento in cui lavorano non solo nel momento in cui vi danno il file ma proprio controllate in diretta nel momento stesso in cui realizzano qualcosa potete anche realizzare altre cose ad esempio c'è un planner che potrebbe servire per pianificare delle attività e organizzare dei progetti anche se questo devo dire la verità si usa molto poco a scuola e un altro strumento molto utile ad esempio è Microsoft Forms che può essere usato per due scopi principali fare delle domande che è una cosa che molto spesso lasciamo da parte perché non pensiamo che possa servirci e per fare questionari quiz da valutare la seconda modalità forse qualcuno di voi l'ha già usata cioè faccio un test metto un punteggio alle domande giuste un punto sbagliate zero punti alla fine mi calcola in automatico qual è il punteggio e mi dice con un solo clic io di solito in un'ora di lezione faccio la presentazione del test 20 minuti di test finito il test faccio una rapida correzione di due minuti perché tanto corregge tutto lui e con un clic restituisco il risultato ai ragazzi che vedono che punteggio hanno ottenuto quale domanda hanno sbagliato e io ho un bel elenco con i punteggi che posso trasformare in voto nel registro quindi preparando il per bene mi evito un sacco di lavoro di correzione poi dopo però un'altra cosa molto interessante è la somministrazione di sondaggi questa è una cosa che io trovo molto utile perché ad esempio in teams posso fare una domanda ai ragazzi per vedere a che livello sono se stanno seguendo se non stanno seguendo se hanno capito quello che sto dicendo cose del genere ottenere magari una cosa del genere un grafico che mi dice sì abbiamo capito no cose del genere nelle lezioni a distanza questa cosa potrebbe essere molto utile insomma visto che ci manca un po' il feedback dei ragazzi perché non li vediamo non riusciamo a capire se hanno la faccia a punto interrogativo oppure stanno capendo quello che stiamo dicendo e poi si può connettere questo a strumenti di analisi avanzata ma questo lo lasciamo perdere perché non credo sarà il soggetto però a chi piace tanto giocare sui numeri e fare grosse indagini su questionari avanzati insomma si può anche connettere a strumenti più complessi che riescono a elaborare dati in maniera più dettagliata e ovviamente arriviamo al cuore del nostro sistema cioè l'applicazione più utilizzata all'interno di una classe Microsoft Teams io premetto che questo software ho iniziato a usarlo due anni l'ho usato iniziare in realtà perché nel 2017 sì ho iniziato a usarlo nell'anno scolastico 2017-2018 e l'ho usato in classe ovvero io quando ero in classe in presenza con i ragazzi e non avrei mai immaginato di trovarmi in una situazione del genere con queste lezioni a distanza io già usavo Microsoft Teams che in realtà è un volendogli dare un nome tecnico è il social network per la scuola quindi è a tutti gli effetti un sistema per connettere le persone attraverso internet potete effettuare determinate cose se voi pensate un social network ad esempio Facebook è pensato per condividere post, foto e cose di questo tipo Twitter è pensato per condividere informazioni e notizie LinkedIn per condividere informazioni di lavoro Teams è un social network pensato per condividere informazioni collegate a una classe infatti è pensato non tanto per fare amicizia oppure seguire una persona oppure mandare tweet ma è pensato per creare dei gruppi di lavoro che possono fare dei compiti possono condividere dei materiali e avere una bacheca di condivisione di messaggi quindi fare attività che di solito si fanno anche in classe normalmente ma che in questo modo possono essere fatte online e si possono fare direttamente quindi perché lo usavo lo stesso in classe io come detto sono un insegnante di informatica che spesso mi capita di dare un esercizio da fare al computer facciamo ad esempio creiamo un programma in python oppure scriviamo un documento in word facciamo impariamo a usare powerpoint l'idea è io gli do una consegna do un esercizio da svolgere con determinate consegne i ragazzi lo devono svolgere mi devono inviare il lavoro completato inviandomi un file un documento un pdf qualcosa che hanno prodotto poi loro e queste operazioni avvengono in maniera molto rapida attraverso teams attraverso la scheda attività un'altra cosa che mi capita di fare è devo dare loro molti documenti come dei tutorial delle spiegazioni e cose del genere il poterle raccogliere in un unico post e dirgli ragazzi le spiegazioni stanno lì in quella cartella trovate tutto fine non devo mandargli mail controllare che hanno ricevuto mail ricevere cose indietro andare a uno a uno a raccogliere informazioni da loro ma devono fare tutto cioè fa tutto il sistema il sistema raccoglie si informa che ora è stato fatto insomma tutta la parte che si può automatizzare la fa lui quindi io non devo occuparmi di altro che di creare il gruppo di lavoro mandare il file a tutti quanti mandandolo correttamente correttamente scusate e siamo tutti più contenti ovviamente da quando è arrivata la pandemia l'uso di Teams è cambiato cioè si è evoluto è diventato usiamolo per fare la lezione vera e propria per sostituire completamente l'attività in classe non è lo scopo ideale non è quello per cui è pensato Teams però ci siamo adattati e cerchiamo di utilizzarlo in questo modo fin quando possibile quando questa situazione finirà visto poi da subito io continuerò ad usarlo anzi sto cercando di coinvolgere più persone a usarlo anche dopo questa situazione di pandemia perché questo è lo scopo di Teams per questo che è nato comunque sia detto questo quindi l'idea di Office 365 quindi è proprio questa quella di connettere le persone di aiutarle a comunicare meglio di condividere dei materiali in maniera più interessante di collaborare aumentando insomma facendo in modo che ognuno faccia il proprio piccolo e che otteniamo tutti lo stesso obiettivo bene detto questo vabbè cerchiamo un pochino di entrare nell'ottica del Office 365 quindi andiamo un pochino a vedere come funziona quindi ora prima di andare su Teams vero e proprio di vedere che cosa facciamo vi vorrei far vedere partiamo dalla schermata principale dell'ecosistema Office 365 quindi una volta che voi fate l'accesso all'ecosistema Office 365 ora questo forse è un pochino troppo ridicolo da vedere un attimo che forse mi sono perso la schermata ok no devo rifare l'accesso allora abbiamo detto la scuola ci fornisce un account e con quell'account possiamo fare l'accesso ad Office 365 vi stupirà ma per accedere all'account non dovete fare l'accesso al sito della scuola o cliccare su chissà quale link vi hanno detto apri posta cose del genere in realtà il sito da aprire si chiama office.com perché tutti gli account Office 365 si aprono da questo sito office.com scrivete l'indirizzo mail che vi ha fornito la scuola questo ad esempio è il mio sito.pr chiocciola itcitosi.va.it inserendo la password si accede alla piattaforma Office 365 la maggior parte dei miei colleghi vanno sul sito della scuola accedi a servizi della scuola posta elettronica e poi vengono rimandati su questa pagina è un passaggio inutile lo fanno tutti ma è un po' inutile perché comunque arriviamo tutti quanti qui ovviamente quello che cambia a voi è il fatto che qui non c'è scritto ericotopsi ci sarà scritto istituto della pesca non so comunque sia la schermata bene o male è più o meno la stessa c'è una sorta di schermata di benvenuto in cui ci sono una serie di file e cartelli condivisi che avete bene o male utilizzato le ultimi documenti utilizzati bene o male e qui a fianco la cosa che mi interessa ci sono tutte quante le applicazioni dalle più usate alle meno usate ok quindi in cima all'elenco ci sono ovviamente le tre applicazioni principali word excel e powerpoint queste sono le versioni di word excel e powerpoint online che quindi se aprite verrete rimandati a un programma che somiglia in tutto e per tutto a word ma che in realtà è una semplice finestra in internet quindi una pagina web che si comporta esattamente come word quindi voi non avete installato nulla sul computer su cui state lavorando avete aperto una pagina web che però si comporta esattamente come fosse word vedete e qual è il vantaggio di usare la versione word online invece che la versione word excel e powerpoint che appunto tutto ciò che salvate qui dentro andrà a finire in una cartella in una cartella salvata online che è un'altra di queste applicazioni in questa schermata oggi è piuttosto lenta l'apertura di word ecco finalmente si è aperto quindi facciamo che gli do un nome questo documento lo chiamo file che non contiene nulla e qui dentro nel documento scritto al centro del documento come vediamo se lo trovo no vabbè facciamo niente che lo scrivo enorme 28 grassetto così com'è scriviamo e stamattina non mi vuole dare retta il lo scriviamo rosso vediamo se lo prende niente non me lo vuole scrivere vabbè comunque l'ho chiamato come file che contiene il nulla pazienza ci sarà un bel nulla un bel nulla puntato ecco meglio così un puntino rosso al centro del foglio quindi questo file nel momento in cui io chiudo la finestra appunto non si sta salvando sul computer ma si sta salvando da qualche parte in una cartella che fa parte del mio account quindi c'è una cartella all'interno dell'account che è questa nuvoletta azzurra l'applicazione OneDrive che contiene tutti i file e cartelle che voi create attraverso il vostro pacchetto office 365 ora io ne ho una quantità sproporzionata di cartelle di file se si finisce se finisce di caricare oggi non vuole darmi retta comunque sia eccolo qui se vado a cercare l'ho chiamato documento file che non contiene nulla eccolo qui qui è presente il mio file che ho appena creato e si è salvato in questa cartella online quindi io posso chiudere il computer andare da qualche altra parte e mi ritroverò questo file ora perché è tanto importante questa cosa qui perché in realtà questa cartella condivisa è la cartella che contiene un po' tutto non contiene solo i documenti di Word ma contiene tutti i file e le cartelle che noi stiamo creando un po' in tutte le applicazioni mi sembrerà strano ma anche in Teams qualunque cosa noi facciamo in Teams verrà creata una cartella nello spazio nostro personale o condiviso di un certo gruppo e quei file e quelle cartelle noi potremo aprirli modificarli e condividerli e fare qualunque altra cosa la cosa interessante appunto è che appunto la cosa che volevo farvi notare è che alcuni file nella mia cartella hanno un'informazione che si chiama privato il che vuol dire che questo è un file mio personale che posso usare soltanto io però esistono file che invece hanno una dicitura che è condiviso che cosa vuol dire significa che quel file non è soltanto mio ma in realtà è mio ma altre persone oltre a me possono aprirlo e modificarlo questo è questa è la vera potenza di Office 365 il vero cambiamento che ha cambiato tutto e quindi è quello che dobbiamo capire per bene se vogliamo imparare a usare gli strumenti Office 365 che un file non è soltanto della persona che l'ho creato ma può essere usato anche da più di una persona e la cosa che faccio spesso con i miei ragazzi di solito per farglielo capire non so se riusciremo a farlo questa è una cosa davvero divertente da fare quando la faccio in classe moriamo dalle risate l'idea è questa quando voi create un file o aperto di nuovo Excel perché con Word riesce un pochino male con Excel dove ci sono le caselle viene un pochino meglio potete provare a condividere un file con tutta la vostra classe provate a far creare ai vostri studenti a ognuno a far inserire il proprio nome in ordine alfabetico in maniera da ricreare in Excel l'appello l'elenco di classe niente di più quindi questo file lo potremmo chiamare elenco di classe così come ho fatto prima il nome del file si può cambiare da qui sopra vedete nome file lo chiamo del corso office 365 e in teoria se trovo il modo di inviarvi questo file potreste aggiungere il vostro nome ad esempio un metodo potrebbe essere il metodo effettivamente è perché qui in alto sulla destra vedete c'è il pulsante condividi che permette di condividere questo file con altre persone vedete si apre questa finestra perché vi richiede di inviare il collegamento con il quale voi potete decidere come che tipo di restrizioni ha questo file cioè chiunque con il collegamento significa è liberissimo chiunque può entrare e fare le modifiche che gli piace se invece il documento è un po' più riservato le persone di tetosi con il collegamento che significa che solo se hanno un account della mia stessa scuola se voglio restringere ancora di più posso dire persone che hanno già l'accesso oppure persone specifiche in cui devo fare io l'elenco di chi può accedere così è strettamente riservato comunque sia diciamo che chiunque con il collegamento se io copio il collegamento ho copiato un link eccolo qua è piuttosto lungo da leggere il link non ve lo faccio leggere però adesso non so se abbiamo una chat nella riunione penso di no se avessi una chat potrei mandarvi il link però vi faccio vedere un piccolo esempio diciamo che c'è qualcuno un qualcuno che io conosco molto bene vediamo se riesco a fare aprire a questo qualcuno il mio file e vi faccio vedere cosa succede io sono qui dentro in questa cartella però in questo momento sta per entrare qualcun altro vediamo se funziona devo fare devo fare l'accesso eh sì devo fare va bene allora farà l'accesso un anonimo quindi una persona che non non ha il permesso vediamo se funziona forza e mentre io continuo a magari lavorare qui vedo ecco qui qualcuno ha scritto la parola ciao vedete questa cartella in realtà è perché c'è quest'altro utente che non sono io perché io sto lavorando qui dentro questa modifica qui le modifiche che stanno avvenendo qui dentro le sta facendo un altro utente che non sono io però io riesco a vederle in diretta perché vedo che ad esempio sì ecco Topolino ha appena scritto modifica fatta da Topolino ora si è spostato qui dentro quindi questo è un altro utente che ha ricevuto il link ovviamente un utente inventato in realtà sono io l'ho usato solo per farvi vedere come funziona e quindi immaginate cosa succede in classe in realtà quando io faccio questo esercizio io vedo comparire una ventina di questi nomi all'interno del mio file ognuno che se ne va in giro e scrive qualcosa di diverso nello stesso file poi se la classe è troppo movimentata viene un caos totale se la classe è corretta in pochi minuti viene fuori l'elenco di classe in ordine alfabetico tutto corretto con tutto perfettamente allineato questo è uno degli strumenti e non si può stare solo in classe potete usarlo con i colleghi con il consiglio e quant'altro ora abbiamo iniziato con file e cartelle adesso vi faccio vedere ovviamente io per poter condividere il file ho dovuto fare condividi ho dovuto trovare il modo per inviare a topolino il link ma che cosa succede se io topolino ce l'ho in una classe che succede se io ho già creato un team all'interno della classe voglio creare un documento continuiso beh semplicissimo ora si dà il caso che io sia il professore in una classe che si chiama paperopoli vediamo se si riusciamo ad aprirla quindi questo è teams che non so se lo conoscete già comunque se preferite faccio una brevissima introduzione a teams visto che ci siamo vabbè facciamo una breve introduzione così vi spiego come funziona mi dispiace che devo saltare da una presentazione all'altra ma così in due minuti diamo un attimo un'occhiata a teams allora teams funziona così c'è una barra laterale qui sulla destra sulla sinistra scusate che fa aprire un menu diverso ogni volta e nel nostro caso ci sono una serie di pulsanti ognuno dei quali ha una funzione diversa e vi permette di fare cose diverse ovviamente teams abbiamo già detto che è un social network e in particolare l'interfaccia di teams che ovviamente si può usare per tantissimi su tantissimi dispositivi su windows su android ios e qualunque altra cosa io comunque sia consiglio io sempre di installare il programma e non usarlo dalla versione web perché se installate il programma avete più funzionare e meno problemi di non si apre errori e quant'altro cose del genere inoltre un piccolo consiglio che vi do è che se condividete lo schermo dalla versione web di teams in automatico vi si spegne la videocamera non potete condividere lo schermo e condividere il video contemporaneamente quindi se usate l'applicazione invece potete condividere entrambe le cose e quindi per il motivo per cui consiglio sempre quando andate su internet la prima volta e aprite teams usate questo pulsantino per scaricare teams e installarlo sul vostro computer sempre se avete un computer abbastanza con abbastanza memoria da poter installare un nuovo programma comunque sia le finestre di teams sono azioni che è un po' una sorta di area notifica quindi quest'area qui in alto che chiamiamo azioni è l'area delle notifiche quindi quando cambia qualcosa nelle vostre nei vostri team in qualcosa compare un messaggino su azioni che vi segnala il fatto che è arrivato qualcosa di nuovo la chat in realtà io questa la chiamo l'area whatsapp perché questa funziona esattamente come whatsapp e anzi io detesto che mi contattino tramite whatsapp se mi devono dire qualcosa me lo devono dire tramite chat di teams perché questa è l'applicazione e lo strumento che devono usare questo qui qualcuno è venuto in possesso del mio numero non so perché però l'ho subito reindirizzato qui questo funziona allo stesso modo qui avete in questa barra qui di lato avete le conversazioni già avviate se la conversazione non è avviata con questo pulsantino una matitina dentro un quadrato avviate una nuova conversazione scrivete il nome della persona che volete contattare gli potete scrivere dei messaggi la potete anche videochiamare o chiamare solo audio cioè whatsapp gli potete mandare file potete whatsapp punto ho finito potete anche creare dei gruppi sì ecco come whatsapp quindi qualunque cosa fate su whatsapp la fate anche in chat di teams in team invece avete tutti i gruppi di lavoro un gruppo di lavoro può essere una classe ma può essere anche un gruppo di colleghi può essere il consiglio di classe può essere i colleghi del dipartimento o tutto quanto il collegio docenti o qualunque altra cosa e in ogni gruppo ci sono una cosa che succede in ogni gruppo ci sono dei canali ogni canale praticamente è un argomento la maggior parte di noi tiene solo il canale generale ma in realtà si può creare il gruppo che ne so noi nel gruppo di informatica abbiamo il canale CLIL il canale IFS il canale Vattelappesca in ogni canale ci sono schede diverse comunque sia le schede principali sono post che è una bacheca tipo facebook file che è una cartella tipo one drive cioè quella cartella one drive che vi ho fatto vedere prima quella file è una cartella che però in questo caso è condivisa da tutto quanto il team e adesso vedremo come funziona blocco appunti della classe non c'è tempo per vederlo però è collegato a one note attività e voti sono dove si eseguono i compiti quindi dove andate a fare voi far fare gli esercizi ai ragazzi in maniera automatica quindi credo che lo avrete già visto in qualche modo attività in realtà è una raccolta di tutte le attività di tutti quanti i team è un po' un duplicato della scheda che vi ho fatto vedere in team e calendario vi fa vedere tutte le riunioni pianificate di teams e eventualmente anche altri eventi nel calendario di outlook quindi del vostro ecosistema office 365 che potete utilizzare che potete vedere quindi sapere che cosa avete in quel giorno io vista la marea di impegni che sono venuti fuori da quando facciamo lezioni online senza il calendario di teams sarei perso potete dire la verità infatti se vedete il mio calendario è segnato da qualsiasi chiamate sì vabbè appunto chiamate in realtà questo lo lascerei perdere perché lo vedo un po' come un doppione della chat di prima infatti non riesco a capire perché lasciano ancora qui il pulsante chiamate è davvero inutile comunque sia andiamo in uno dei nostri team allora abbiamo detto cliccando sul pulsante team chiedo scusa se la schermata adesso è diversa perché c'è stato un aggiornamento di teams quindi le icone sono un pochino diverse adesso qui ci sono tutti quanti i team i miei team ora non faccio vedere tutti i team ma andiamo in uno particolare eccolo qua il gruppo Paperopoli questa è una mia classe in cui ci sono una serie di studenti andiamo nel canale generale e come vedete qui c'è entriamo subito nella bacheca però la cosa che mi interessa farvi vedere è appunto la scheda file la scheda file è una cartella online condivisa da tutta quanta la classe ovviamente in questa classe c'è ci sono gli studenti ci sono io qualunque file io vado ad inserire qui dentro verrà visto anche dagli studenti quindi io posso tranquillamente andare nel mio computer da qualche parte che ne so a prendere un documento qualsiasi ad esempio nel mio computer io ho un file tra le lezioni diciamo voglio cominciare a parlare di word alla mia classe quindi devo dare questo file a tutti i miei studenti come faccio semplicemente prendo il file che io ho sul computer lo trascino qui dentro nella scheda file della classe paperopoli e dopo che avrà finito di caricare oggi non mi vuole dare ragione quell'elemento ecco che compare dategli il tempo compare all'interno di questo elenco l'ho appena aggiunto Silvio Pierro e quindi tutti gli studenti che fanno parte di questo team potranno vedere questo file scaricarlo aprirlo o eventualmente anche modificarlo che ad esempio questo file elenco può essere modificato ad esempio da Topolino come vedete Topolino è l'ultimo che ha modificato il file elenco quindi i file che si trovano qui sono di tutta la classe quindi tutta la classe può aprirli modificarli e fare quello che vuole se invece volete dare dei file e fare in modo che loro non possano modificarli vi conviene inserirli in questa cartella che si chiama materiale del corso perché qui dentro i ragazzi non possono modificare vedete i file della classe di sola lettura sono disponibili qui gli studenti possono visualizzarli ma solo i docenti possono approvare o portarvi modifiche quindi io che sono un insegnante qui dentro posso inserire materiali modificarli i ragazzi possono solo visualizzarli ok qui in alto ritrovate General materiale del corso perché siamo nella cartella materiale del corso diciamo che qui dentro carico un file facciamo per esempio essere un file che si possa modificare facciamo quindi prendo un file di word non lo so esercizio per casa questo qui c'è un file e andiamo a vedere che cosa vedrà Topolino adesso il tempo di caricarsi aggiornamento aggiornamento aggiornato perfetto è comparso il file andiamo a vedere che cosa vede Topolino quindi chiudo il mio Teams ed apro il Teams di Topolino vediamo se riesco a trovarlo eccolo qui questo è Topolino quindi adesso fatemi chiudere il file Excel perché Topolino stava facendo un po' di tanni nel mio file Excel e come vedete intanzitutto Topolino partecipa a una sola classe fa parte solo della classe Paperopoli e anche Topolino quando apre la classe Paperopoli si ritrova la bacheca Topolino può eventualmente scrivere qualcosa in bacheca perché come tutte le persone come tutte le bacheche tipo Facebook o quant'altro si può ciao sono Topolino e magari manda anche una faccina sorridente e facciamogli mandare una una faccina sorridente anzi no un amici mostro vi facciamo mandare questo mostriciattolo questo renna col cappellino annoiato no non è una renna si capisce che cos'è forse un coniglio bu qualunque cosa sia Topolino l'ha appena mandata nella chat di gruppo cioè più che altro nella bacheca di gruppo ecco la che compare inoltre Topolino può entrare nella scheda file e può vedere i file che ho inserito io può vedere il file cdl lo può aprire e visualizzare così può studiare può leggere fare qualunque cosa vuole con questo file che ho caricato io può modificare questo file excel che ovviamente aveva già modificato ma facciamoglielo modificare di nuovo dai apre il file excel che si apre in excel online ovviamente dategli il tempo di aprirsi un computer che ha una decina di account aperti adesso ci mette un po' di più ecco modificato fatta da Topolino ecco qua e può chiudere excel online perché io so Topolino è dentro teams perché vedete ci sono le strisce viola in alto e sulla sinistra di teams però al centro il contenuto è excel online sta modificando il file e può chiuderlo una cosa un po' particolare che non vi ho detto forse perché ho lasciato per colpa mia insomma perché ho perché ne sono abituato i file online non vanno salvati non c'è un pulsante file salva i documenti si salvano in automatico da soli cioè il fatto che voi lo modificate su internet la modifica avviene in tempo reale non c'è un salva il documento è come un foglio di carta nel momento in cui voi scrivete su un foglio di carta la modifica è già avvenuta non è come su word excel sul computer dove per salvare le modifiche dovete fare click su salva qui si salvano in automatico quindi vi basta chiudere e il file si è salvato e tutto quanto è già presente online in realtà è così poi ultima cosa ovviamente topolino può entrare nella cartella materiale del corso però se prova a entrare in esercizio per casa e a modificare qualcosa in questo file excel topolino non ci riesce perché ovviamente qui la cosa è letteralmente bloccata vediamo se è come dico oppure no ecco qua si sta aprendo dategli il tempo di caricarsi cosa bisogna fare quando provo ad andare a scrivere sola lettura questa cartella è aperta in modalità sola lettura non posso modificarla c'è una matitina qui che mi dice vedi che non puoi modificare il file perché non ti è permesso quindi condividere file condividere messaggi attraverso la bacheca e condividere anche compiti attraverso la scheda attività nella scheda attività di cui non vi ho parlato io posso assegnare un compito uguale per tutti ma che ognuno deve fare in maniera indipendente e come funziona quindi ad esempio in questo momento paperino topolino scusate non deve fare compiti non è rimasto da consegnare nulla hai fatto tutti i compiti bravissimo se invece il professore decide di assegnare un compito a tutta la classe se il professore va in attività e decide di assegnare una nuova attività vediamo se ci riesco in maniera rapida quindi creo una nuova attività posso anche creare un test con un questionario proveniente da Google e da Microsoft Forms però facciamo un'attività in cui io assegno un titolo dell'attività dico file Excel lo chiamo file Excel nelle istruzioni io dico completare il file Excel e volendo gli assegni un punteggio sì dai mettiamo 10 punti come punteggio assegna a Paperopoli sì a tutti gli studenti volendo potrei selezionare solo alcuni degli studenti però diciamo a tutta quanta la classe e diamogli una data di scadenza ovvero la scadenza è oggi durante l'ora di lezione che è appena iniziata quindi diciamo che l'ora finisce alle 17 il povero Topolino ha solo 10 minuti per fare la sua bella attività va bene fatto questo se faccio clic su assegna anzi l'ho fatto male no perché volevo aggiungere un file scusate devo aspettare che arriva eccolo qua devo modificarlo modificatività scusate allora diciamo che io aggiungo un file all'interno del documento quindi vado a cercare un file sempre nel mio computer quindi ad esempio vado in lezioni excel piglio un esercizio facciamo così va se ce n'è uno carino no lezioni la seconda vabbè niente cerchiamo eccolo qua excel assegno un esercizio di excel facciamo un esercizio semplice di formattazione alleggo il file attenzione perché qui gli devo dire una volta che ho allegato il file gli devo dire come cosa possono fare gli studenti ricordate possono solo leggere o possono anche modificare nelle opzioni gli devo dire se gli studenti possono solo leggere o se possono modificare la propria copia se clicco su modificano la propria copia ogni studente riceve un file diverso che è quello che voglio fare io perché ovviamente voglio che ognuno prenda la sua traccia di excel e la modifichi facendo quello che deve fare facciamo un bello aggiorno così tutti gli studenti della classe che sono questi sei ci sono anche io come potete notare fra gli studenti ho usato un account non office 365 ci sono alcuni colleghi che mi hanno dato una mano e ci sono ovviamente gli studenti più simpatici che ci siano tra cui anche Topolino questa schermata la vede solo il docente ovvero il riassunto di cosa hanno fatto tutti gli studenti ovvero nessuno studente ha aperto il compito non consegnato significa non solo non lo hanno consegnato ma non lo hanno neanche aperto nel momento in cui qualcuno va ad aprire il compito come vedete a Topolino è arrivata una notifica la notifica è in realtà dovrebbero essere due ovvero hai appena ricevuto un compito in assignment se lo studente fa visualizza attività può vedere che cosa deve fare eccolo qui che arriva trova vedete titolo file excel scade fra sette minuti sei proprio non hai tempo di farlo completare il file excel qui c'è il file excel e qui c'è il pulsante consegna ora però siccome Topolino ha aperto la consegna quindi ha visto qual è il compito all'interno della mia schermata se io faccio aggiorna purtroppo dovete fare aggiorna qui da questo pulsante rotondo per vedere le modifiche e riapro questa schermata di file excel dove vedo che nessuno ha terminato il lavoro però andando ad approfondire se rivedo l'elenco dei miei studenti mi accorgo che Topolino ha visualizzato il compito ok quindi adesso so almeno che uno di questi sei studenti almeno ha iniziato a fare qualcosa Silvio diciamo che Topolino apre questo bellissimo file cliccando ci si apre sempre in excel online fa una modifica qualunque cancella tutta la colonna qua perché questa è la modifica che fa Topolino ok dopodiché Topolino chiude excel e consegna perché dice ho finito volendo può anche aggiungere un altro file con aggiungi lavoro cliccando su consegna compare una piccola animazione divertente che fa vedere il fatto che ha consegnato e a quel punto se io torno qui e faccio clic su aggiorna purtroppo non si aggiorna in automatico dovete sempre fare clic su aggiorna a quel punto ecco che Topolino vedo che una persona su sei ha consegnato e se apro la scheda mi accorgo che Topolino ha consegnato e se clicco sulla consegna potrò andare anche a vedere che cosa ha combinato Topolino posso vedere ecco che Topolino ha cancellato la colonna B Silvio perdonami ma ti devo interrompere se vi interessa sapere quando lo ha fatto qui c'è scritto quando ha consegnato perdonami ma ti devo interrompere perché siamo andati oltre i limiti è stato davvero interessante bellissimo non ti interromperai mai però purtroppo abbiamo un altro workshop che inizia e che proprio non ce la faccio grazie davvero grazie a tutti i partecipanti se ci sono domande scriveteci pure info chiocciolacampustore.it provvederemo a farle avere a Silvio in modo che possiate approfondire perché non ne sono arrivate quindi probabilmente si è stato talmente chiaro che non non c'è bisogno di chiarire ulteriori punti però siamo sempre a disposizione abbiamo anche una sezione ovviamente dedicata a Microsoft e agli strumenti di Office 365 quindi anzi a Microsoft 365 ormai quindi se doveste avere bisogno scriveteci pure grazie ancora a Silvio e per chi vuole rimanere con noi chiudo questa stanza per aprire la prossima quindi ci vediamo alle 5 per parlare di Montessori nel mondo digitale con Mario Valle e Giovanni Fumagalli quindi ci vediamo di là per chi starà con noi ciao Silvio grazie a tutti grazie a voi